Ciao a tutti, nuova puntata dei libri young adult, ovvero una rubrica dedicata alla letteratura young adult non trash e quindi libri per ragazzi che io vi consiglio. Oggi parleremo di un libro che mi ha sorpreso in positivo e sto parlando di Girls di Jessica Schiffauer. Non so se si pronunci così, l'autrice è svedese, quindi chi conosce lo svedese mi dica qua sotto la pronuncia esatta. Il fatto sta che è un romanzo che io pensavo, data anche la copertina un po' glamour diciamo, il libro edito Feltrinelli, pensavo che fosse frivolo, non trash, divertente, mi immaginavo un libro molto divertente, frivolo e spigliato. In verità non è nulla di tutto questo, è un libro fortemente malinconico, fortemente etereo e anche molto enigmatico e secondo me è una bella lettura per gli adolescenti, infatti l'ho trovato in biblioteca nel reparto giovani adulti. Il libro parte da una premessa molto semplice, non particolarmente originale, ma è originale il modo in cui l'autrice ha deciso di trattare questo spunto, quest'idea, no? Sì, è un po' un ideale in stile Freaky Friday, ovvero cambiare il corpo tramite una sorta di incantesimo, se vogliamo. Le protagoniste di questo romanzo sono tre, e sono tre ragazzine a cavallo tra l'infanzia e l'adolescenza, quindi stanno sviluppando dei cambiamenti nel corpo, e sono Kim, Momo e Bella. Sono tre inseparabili amiche che però iniziano a provare del disagio nei confronti del loro corpo, che cambiano, che scatena anche il, diciamo, il bullismo dei ragazzi, dei maschi della loro classe, perché a loro sta iniziando a crescere il seno e quindi i maschi iniziano a fare i fischi e a fare un po', diciamo, gli scimmioni, ecco. Sono tre ragazze che però vorrebbero rimanere bambine per sempre, in sostanza, no? Molto ancora curiose per la vita, da un punto di vista quasi infantile, tre piccole Peter Pan, quasi, no? Che hanno soprattutto Momo, Momo è l'artistona, no? Bella è invece quella che quasi ha più voglia di crescere, e Kim però è la nostra narratrice, quella che si sente fuori posto. Lei, rispetto alle sue amiche, in un certo senso, ha una sorta di complesso di inferiorità, perché non sente di aver trovato ancora il suo posto nel mondo, non sente di avere una qualità particolare, una qualità precisa, e la cosa molto interessante è proprio che la scrittura ce lo fa intendere. Perché? Perché la cosa bella della scrittura di Jessica Schiffauer è che è sicuramente adatta al target, dei ragazzi, anche giovani, giovanissimi. Però, mentre negli young adult mainstream c'è questa scrittura risicata, molto spesso tendente al brutto, talmente semplice da diventare brutta, piatta, l'autrice qui, invece, ha il talento necessario per poter dare un'impronta personale e per utilizzare una scrittura semplice per dare dei messaggi veri e propri. Oltretutto, qua, la scrittura, pur essendo semplice, sfrutta anche delle parole più poetiche o delle parole più inusuali nel contesto della narrazione. Non sembrano fuori posto, ma l'ho trovata una cosa molto bella, perché secondo me un ragazzino, una ragazzina, che si approccia alla lettura e anche sceglie un libro frivolo, è bello che impari delle parole nuove, perché la lettura, soprattutto in età scolare, diciamo, deve insegnare delle nuove parole, deve arricchire anche il linguaggio, no? E questo libro lo fa, secondo me. Cioè, se fossi stato... se l'avessi letto da ragazzino avrei imparato delle parole nuove, cosa non banale. Un'altra cosa interessante, ma ci arriviamo meglio dopo, è che l'autrice gioca anche con le accordanze di genere. Non so com'è lo svedese come lingua, perché non l'ho studiata, non la conosco, però... e non so se, nel caso non ci siano accordanze come l'inglese nella lingua svedese, non so se ci sono degli altri trick nella narrazione originale per dare questa confusione di accordanze, o se è la traduzione che le fa, perché le ho trovate indovinate, soprattutto per quanto riguarda la seconda... l'idea generale del libro, no? L'idea generale del libro è appunto che queste tre amiche condividono una serra, una serra con piante esotiche da tutto il mondo, è una serra di Momo, che è l'artistona, quella tutta frivola, eccetera, che appunto colleziona piante esotiche e si ritrova in questo pacco una pianta misteriosa e inclassificabile, che secerne questo sorta di liquido molto mieloso e dolce che le tre decidono di assaggiare e questo porta a una sorta di incantesimo, un incantesimo che trasforma i loro corpi di ragazze in ragazzi e quindi le tre iniziano a giocare con il corpo perché soffrono appunto del bullismo dei compagni di classe maschi e nella loro nuova armatura maschile si sentono invincibili. Il problema nasce dal fatto che mentre Momo e Bella la vivono come un gioco, Kim molto presto inizia a ossessionarsene proprio perché è quella che sente di essere limitata rispetto alle amiche, sente di non avere una personalità propria e quindi crede che un corpo da ragazzo le dia il coraggio e proprio perché si parla di continuo cambiamento, di incapacità di secernere, di secernere, perché sto ancora pensando alla pianta, di discernere tra maschio e femmina, la narrazione gioca molto spesso sulle ambiguità delle accordanze. Molto spesso la narratrice, ovvero la protagonista, non sa come definire se stessa, se uomo o donna e cambia continuamente l'accordanza di genere e questo l'ho trovata una cosa molto interessante e se è voluta è fighissima. Se non è voluta, non lo so, premio la traduzione italiana che ha aggiunto quel quid in più al romanzo, secondo me, però credo che sia voluto nelle intenzioni dell'autrice perché è un libro che viaggia su binari enigmatici in un certo senso, no? eterei. Kim inizia ad ossessionarsi alla sua figura maschile e inizia un'amicizia forte con Tony. Tony è un bulletto di quartiere, è un bulletto di quartiere che è il classico maschione del tipo da young adult quasi, il classico maschione che compie anche dei piccoli reati, dei piccoli crimini che diventano sempre sempre più gravi, no? ma forte di questa amicizia Kim decide di rimanere maschio in un certo senso. Il problema nasce dal fatto che le amiche vedono questa intenzione di Kim malsana in un certo senso, anche perché il fluido che esce da questa misteriosa pianta sta terminando e l'amicizia tra le ragazze si incrinano e mentre si incrinano ci sono questi problemi l'ossessione di Kim diventa sempre più pericolosa e inizia ad essere coinvolta in fatti più grandi di lei e di più non vi voglio dire perché altrimenti vi rovinerei l'intero libro. Il libro questa premessa iniziale che mi ha ricordato Freaky Friday o quel pazzo venerdì dove c'erano madre e figlia che si scambiavano i corpi in realtà è uno spunto di narrazione attraverso il quale l'autrice riesce a individuare delle grandi tematiche legate all'adolescenza tra cui banalmente il cambiamento del corpo e l'incapacità di accettare il passaggio all'età adulta o quantomeno più che l'incapacità di accettare l'incapacità di capire il passaggio all'età adulta da un punto di vista fisico è un libro che riflette molto anche i conflitti tra maschi e femmine in un'ottica da un'ottica adolescenziale ma l'autrice sembra che voglia fare un discorso molto in generale sulle problematiche legate all'incomunicabilità tra uomini e donne e lo fa con una leggerezza che ho invidiato quasi perché è stata veramente brava nel farlo e la cosa che mi è piaciuta del romanzo anche è che per quanto il corpo assuma una funzione molto forte perché si parla di corpo Kim ha paura di esplorare il suo corpo di donna ma appena si tramuta in un uomo quindi non è il suo corpo è un'immagine altra del suo corpo quasi come se la pianta desse dell'allucinazione lei non cambiasse mai no in realtà lei esplora il suo corpo maschile continuamente agisce da maschio perché è ma agisce da maschio con la sua personalità no la personalità di una persona che non accetta di essere ciò che è perché e non si capisce se indossi il corpo come arma il corpo da maschio come arma o perché si sente uomo effettivamente vuole eventualmente fare un cambiamento di genere non è chiaro perché la protagonista non ha chiarezza sulle sue idee sta vivendo un momento di grande dubbio e per quanto il corpo sia centrale ci sono tantissime descrizioni legate al corpo anche da un punto di vista proprio esplicito ma la scrittura è molto eterea è molto rarefatta è incorporea ed è una cosa che mi è piaciuta molto il libro viaggia anche su pinari che via via si fanno sempre più cupi mai però espliciti sempre da un punto di vista quasi sognante ci sono dei momenti in cui mi sono quasi perso perché il ritmo era molto sognante è comunque un libro che si legge velocemente è molto coinvolgente anche perché il target di riferimento sono gli adolescenti e è un libro che pur trattando la problematica dei cambiamenti di corpo da un'ottica molto femminile può essere apprezzata anche da un pubblico maschile sicuramente è un libro che parla a tutti secondo me ed è un libro young adult che può essere apprezzato anche da un pubblico adulto perché è tutt'altro che superficiale vengono trattate tematiche come la sessualità come il corpo come le problematiche sociali tra uomini e donne lo fa con semplicità perché devono essere semplici le tesi ma senza superficialità ed è una cosa non banale l'autrice ci è riuscita bene e quindi vi consiglio questo libro fatemi sapere se l'avete letto se non l'avete letto vi incuriosisce non vi incuriosisce perché io vi aspetto a un prossimo video vi mando un bacione e alla prossima ciao ciao ciao